Alta tensione in Medio Oriente, il conflitto si estende al confine con il Libano bombardato da Israele nella notte e Sbollar risponde con il lancio di 50 razzi. Cresce il mercato dei farmaci, contraffatti sei annunci su dieci, non sono riconosciuti dai consumatori i dati dell'ultima ricerca dell'Università Cattolica. Seconda giornata del meeting di Rimini, le voci dei volontari che rinunciano alle ferie per organizzare la 45esima edizione dell'incontro di Comunione e Liberazione. Buongiorno, ben ritrovati negli studi del TG 2000. In apertura dunque la guerra in Medio Oriente sale la tensione al confine tra Libano e Israele. Lo abbiamo sentito, ma rimangono lontane anche le ipotesi di una tregua con Gaza. Per tutti gli aggiornamenti però ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera Alessandra a te. Buongiorno, se si respira poco ottimismo e molto frustrazione alla vigilia di quello che domani dovrebbe essere il secondo round negoziale al Cairo per arrivare a un cessato il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas, ma le parti sembrano ancora molto distanti, anche se lasciando il Qatar ieri sera il segretario di Stato americano Blinken insieme al ministro degli esteri di Doha ha detto che comunque la proposta sul tavolo colma le lacume, ma Hamas continua a ripetere che gli Stati Uniti hanno aggiunto all'accordo degli elementi favorevoli a Israele e ieri anche il premier Netanyahu da parte sua incontrando alcuni familiari degli ostaggi ha detto che l'accordo non sarà facilmente raggiunto e ha anche ripetuto che Israele non è disposto a rinunciare all'occupazione militare del corridoio di Filadelfia, quella a sud appunto con l'inconfine con l'Egitto vicino al valico di Rafa, valico che rimane comunque ancora chiusa, cresce la rabbia dei familiari degli ostaggi che accusano il premier di scaricare sempre su altri le responsabilità che sono tutte sue e ieri sera il portavoce dell'esercito Agari ha confermato che si sta investigando anche sulla causa della morte dei sei ostaggi cui i corpi sono stati riportati in Israele in un'operazione dell'esercito a Chagnune se potrebbero essere anche stati soffocati nei tunnel dove sono stati ritrovati insieme a loro carcerieri a causa del fuoco israeliano 109 sono i ostaggi ancora dentro la striscia e Agari si è una risposta alla domanda di quanti di loro possano essere ancora vivi le operazioni militari intanto a casa continuano pesanti, poco fa nuove ordini di evacuazione da una zona cosiddetta umanitaria continua anche a crescere il bilancio delle vittime, anche civile si infiamma sempre di più il fronte con il Libano 55 sono stati lanci tra missili e droni rivendicati da Sbolla contro Israele, solo un ferito lieve ma tanti boschi ancora in fiamme ma questa notte anche l'aviazione israeliana ha rimartellato duramente contro le posizioni di Sbolla nel sud del Libano e da Giosolem la linea può tornare a voi Grazie Alessandra, noi continuiamo con la guerra in Ucraina, pioggia di droni sulla Russia, almeno 11 quelli intercettati in direzione di Mosca, il creminino anche intanto avanza in Donbass sentiamo Caterina Dall'Olia Il Parlamento ucraino approva le nuove norme che mettono al bando ogni organizzazione religiosa subordinata a quelle del paese aggressore dopo un anno e mezzo di tensioni e battute d'arresto diventa legge il testo che punta a difendere la sicurezza nazionale che rafforza la nostra indipendenza spirituale, commenta il presidente Zelensky nelle disposizioni non si fa riferimento alla chiesa che affonda le sue radici in Russia ma la legge ha come unico bersaglio la comunità ecclesiale che è ufficialmente collegata al patriarcato di Mosca il quale respinge ogni addebito e ricorda che dopo l'inizio dell'invasione è stata dichiarata l'autonomia della chiesa russa ed è stato rimosso ogni riferimento al patriarcato di Mosca compreso il nome del patriarca Kirill che ha benedetto la guerra voluta da Putin oggi la chiesa di matrice Moscovita è quella che conta il maggior numero di strutture in Ucraina 8.000 secondo i dati del governo invece ancora stenta il travaso di fedeli e di templi alla chiesa ortodossa dell'Ucraina la nuova realtà che è stata riconosciuta come autocefala dal patriarcato ecumenico di Costantinopoli la portavoce del ministero degli esseri Zakharova parla di guerra blasfema del regime di Zelensky di tutta risposta il consiglio della chiesa ortodossa dell'Estonia, paese della Nato ha adottato oggi un nuovo statuto dal quale è stato eliminato il riferimento al patriarcato di Mosca sul campo continua l'avanzata nella regione di Kursk un'altra troupe di giornalisti americani è riuscita a entrare per documentare gli eventi nel Donbass invece la situazione per Kiev è grave a dirlo è lo stesso Zelensky i civili della città più vicina al fronte vengono invitati a lasciare le proprie case ed è tornato a lanciare un nuovo appello per la pace oggi Papa Francesco all'udienza generale del mercoledì in aula Paolo VI ci dice tutto Paolo Fucili e per favore non dimentichiamo la mardoriata ucraina che soffre tanto Francesco invoca pace col pensiero a tutte le guerre che insanguinano l'Atlante mondiale ricordando il Myanmar, il Sud Sudan, il Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo e non dimentichiamo la Palestina e Israele che ci sia la pace in me udienza del mercoledì in aula Paolo VI nella festa liturgica di San Pio X morto 110 anni fa mentre divampava la prima guerra mondiale Papa del famoso catechismo che porta il suo nome strutturato in domande e risposte ecco perché oggi si celebra in molti luoghi la giornata del catechista ricorda Francesco in alcune parti del mondo sono i primi a portare avanti la fede preghiamo oggi per i catechisti la catechesi di Papa Bergoglio parla invece di vocazione di ogni cristiano in quanto unto a imitazione di Cristo di essere profumo di Gesù sprigionandolo coi frutti dello spirito che sono amore, gioia, pace e bontà purtroppo invece a volte diffondiamo il cattivo odore del peccato riflette Francesco con un avvertimento speciale Il diavolo, non dimenticate questo, dal solito il diavolo entra dalle tasche stati attenti, stati attenti Negli Stati Uniti i coniugi Obama infiammano la convention democratica di Chicago Yes, she can ha detto l'ex presidente dichiarando il suo appoggio a Kamala Harris Elena Seno La parola chiave è speranza sul palco alla convention di Chicago la evocano con la loro presenza Michelle e Barack Obama per lanciare Kamala Harris dopo la rinuncia alla candidatura di Joe Biden Yes, she can ha detto Barack trasferendo su Kamala il motto che lo portò alla presidenza degli Stati Uniti e infiammando la platea dei democratici che sono stati sferzati da Obama Non fate boom, votate, ha detto il leader Dem di fronte ai fischi rivolti a Donald Trump Urgenza espressa è quella di battere l'ex presidente candidato repubblicano perché non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos, ha detto ancora Obama elogiando invece Kamala pronta ad alzarsi ogni giorno per combattere per voi La Harris ha risposto da Milwaukee dove si è recata con il suo candidato alla vicepresidenza Waltz per un comizio e ringraziato accettando simbolicamente la nomination Ma la corsa alla Casa Bianca si gioca anche sui social ed è su X che Elon Musk si dice pronto a servire accogliendo con un'immagine d'offerta di Donald Trump di un posto nell'amministrazione in caso di vittoria Il tycoon, già intervistato da Musk su X nei giorni scorsi ha ipotizzato una posizione nel governo, un ruolo consultivo per il patron di Tesla In Italia con il naufragio del veliero a largo delle coste palermitane proseguono le ricerche dei sei dispersi, ancora tante le ipotesi sulle cause dell'incidente Erika Calvani Proseguono le ricerche dei dispersi del veliero Bayesian, naufragato due giorni fa a largo di Porticello a Palermo mentre era in rada davanti alla costa di Santa Flavia Ieri sera gli spellosommozzatori dei vigili del fuoco sono entrati nello scafo da una vetrata ma le operazioni sono complesse a causa della profondità a cui si trovano le cabine, circa 50 metri e della presenza nel relitto di ostacoli e spazi molto piccoli I sub scendono in coppia e possono restare all'interno dello scafo per non più di 12 minuti poi devono risalire Ma cosa è accaduto? Come può uno yacht di 56 metri per 473 tonnellate con un albero maestro di oltre 72 metri e dotato di tecnologia avanzatissima Affondare, nonostante una tromba marina, in circa un minuto a poca distanza dalla costa? Molte le ipotesi al vaglio degli investigatori tra cui l'erore umano in una situazione di forte maltempo Sotto esame anche l'utilizzo della cinghia mobile che serve a stabilizzare le imbarcazioni e che non sarebbe stata calata completamente durante la sosta notturna Il veliero trasportava 22 persone, 10 membri dell'equipaggio e 12 ospiti Torna il caldo sull'Italia 3 attese temperature fino a 37 gradi 8 le città da bollino giallo ma 4 regioni faranno ancora i conti con piagge temporali Antonella Mazza Fascia adriatica centro-meridionale a rischio temporali e frane Oggi 4 le regioni allertate dalla protezione civile Abruzzo, Marche, Molise e Puglia Qui da giorni il salento è colpito da trombe d'aria Una si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Nova Siri nel Materano Mentre in Calabria, Cosenza, sotto la pioggia Si allagava il nuovo reparto di rianimazione dell'ospedale annunziata Ampliato di recente Ma il brutto tempo si sta spostando verso est Per approdare nei Balcani E gradualmente sul bel paese Lascia il posto al sole All'aumento delle temperature Scese notevolmente nei giorni scorsi Attesi venerdì intorno ai 34 gradi Al centro-nord fino a 35 Nelle zone interne della Puglia Nel Materano e nel Cosentino Ma il meteo divide gli esperti Non ci saranno eccessi di calore Prevedono alcuni Per altri il caldo sarà accompagnato da AFA Di certo su tutta la penisola Sta per tornare l'estate Almeno per qualche giorno Fino a domenica prossima Sei annunci online su dieci Relativi a farmaci contraffatti Non sono riconosciuti dai consumatori Il dato emerge dal progetto Capsule Condotto dall'Università Cattolica Con il supporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco Lucia Ascione Un problema nel problema Quello dei farmaci contraffatti da una parte E quello della loro vendita online dall'altra Un mercato globale dal valore anno Tra i 200 e i 432 miliardi di dollari Tra il 2021 e il 2022 Si è registrato un aumento dei crimini A sfondo farmaceutico del 10% E la pandemia L'aumento della richiesta E la scarsa reperibilità Di prodotti sui canali di distribuzione ufficiali Hanno ulteriormente aggravato la situazione Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità Il 10% dei farmaci nei paesi In via di sviluppo è falsificato O sotto gli standard di sicurezza Transcrime Il centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Ha fornito ulteriori elementi Circa la vendita online di tali prodotti In una ricerca comparata tra Italia e Spagna Il progetto Capsule Sei annunci online su dieci Relativi a questi farmaci Non sono riconosciuti dai consumatori Sono da un lato i farmaci comuni Anti-influenzali Ma poi abbiamo farmaci più specifici Come quelli per il controllo della perdita di peso Per il controllo del colesterolo O antidolorifici E ci sono differenze tra i consumatori Gli anziani sono sicuramente più vulnerabili Nel senso che dal nostro studio emerge chiaramente Come sono quelli che fanno più fatica A distinguere gli annunci online Leciti da quelli illeciti Dall'altra parte però i giovani Che invece hanno maggiore dimistichezza Hanno un problema di maggiore esposizione Tendono cioè di più a ricercare informazioni online Rispetto a problemi di salute E quindi potenzialmente sono più avvicinabili Rispetto dai rivenditori illeciti Come difendersi allora? Ragionare sull'educazione del consumatore Riuscire il più possibile A informare i consumatori Su quali sono le norme Che devono essere adottate per l'acquisto online Quali sono i prodotti che possono essere acquistati In maniera sicura Sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia Beni per oltre 100 milioni di euro Ai vertici padre e figlio Di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti di Catania L'azienda che operava in diversi settori Dalle pulizie ospedaliere ai rifiuti Negli ultimi anni aveva registrato una formidabile impennata Che ha indotto gli investigatori ad indagare Le ricerche partite nel 2020 hanno infatti poi portato alla scoperta Di legami tra la famiglia Paratore e il clan Santa Paola Ercolano Attraverso la figura del boss Zuccaro Già detenuto a Milano e condannato All'ergastolo per omicidio La Bolivia va a fuoco Bruciato un milione di ettare di boschi La regione più colpita è la Cichitania Una pianura ricoperta da foresta tropicale Al confine con l'Amazzonia Ad innescare le fiamme Sarebbero stati proprio i contandini della zona Che cercano nuovi spazi per la semina Lo sport adesso con la bufera che si è abbattuta su Sinner Risultato positivo al doping è già scagionato Perché la sostanza era utilizzata dal suo fisioterapista Andrea Domaschio Il bravo ragazzo del tennis tricolore Il novello numero uno al mondo della racchetta E' fresco vincitore di Cincinnati E' forse caduto nella trappola del doping Yannick Sinner è infatti il risultato positivo Aprile ha un controllo casuale In occasione del torneo ATP di Indian Wells Negli Stati Uniti Nel sangue del campione altoatesino Sono state trovate tracce infinitesimali Di uno steroide anabolizzante Contenuto nel Clostable Uno spray usato dal fisioterapista di Sinner Giacomo Naldi Per curarsi un dito dolorante E attraverso i massaggi la sostanza proibita Sarebbe in minima parte passata anche nell'organismo del campione Ora un'indagine indipendente dell'Agenzia Mondiale Per l'integrità del tennis Lo ha scagionato per assunzione inconsapevole di tale sostanza Anche se la responsabilità oggettiva Di non aver sorvegliato meglio il proprio staff E' costata a Sinner i 400 punti in classifica mondiale E i 300 mila dollari guadagnati a Indian Wells La sentenza è però appellabile Dall'Agenzia Antidoping Internazionale La UADA E da quella italiana La Nado Un altro bel carico psicologico Per Sinner Con gli US Open Su cui il campione azzurro punta molto Che iniziano lunedì prossimo Seconda giornata di lavori Al meeting di Rimini Luciano Piscagli Ha raccolto le voci dei volontari Che rinunciano alle ferie Per organizzare la 45esima edizione dell'incontro Sentiamo L'essenziale è aver chiaro per cosa uno dà la vita Quello che mi rende felice Prima di tutto una frase, uno schema, un'idea Gesù Cristo Ciò che è più importante Trovare la bellezza nella semplicità di ogni giorno Se non siamo alla ricerca dell'essenziale Allora cosa cerchiamo? Il titolo della 45esima edizione del meeting di Rimini Tratto da un romanzo dello scrittore Cormac McCarthy Provoca le riflessioni dei numerosi partecipanti e visitatori Che hanno affollato la prima giornata della manifestazione Saranno 6-7 volte che veniamo qui 14-15, non lo so, 20 La settimana del meeting per me è proprio una bella settimana È un punto fermo dell'estate Per me l'essenziale è un incontro che ho fatto nella vita L'amicizia è la cosa più bella in questo mondo Quella che si gode di più A rendere possibile il meeting è il lavoro gratuito Di oltre 3.000 volontari Molti dei quali hanno sacrificato parte delle ferie Per costruire il grande villaggio Che nella fiera di Rimini ospita il meeting Non ero mai venuta Però ho visto un po' di amici venire negli anni scorsi Mi hanno un po' incuriosito Anche come tornavano contenti Nonostante tutto il lavoro che facevano L'ho sempre vissuto come un momento molto bello In cui poter approfondire l'amicizia con i propri amici E conoscere anche nuova gente Questa cosa mi costruisce Cioè capisco che mi aiuta anche a capire Come proprio si può lavorare a una cosa così grande insieme E prima di chiudere vi ricordo che Dopo il meteo andrà in onda Proprio uno speciale sul meeting dell'amicizia tra i popoli Oggi dedicato alla storia di un medico Che a Gerusalemme cura arabi ed israeliani Curato da Luciano Piscaglia Il prossimo appuntamento con l'informazione È alle 14.55 Io vi ringrazio per averci seguito E vi auguro buon pranzo Arrivederci Il prossimo appuntamento con l'informazione